Nessuna intenzione di dimettersi. Il presidente della Camera di Commercio, Pino Bruno, ribadisce, sempre con gli stessi toni, la totale indisponibilità a fare un passo indietro, spiegando che il suo atteggiamento è figlio di irresponsabilità e della volontà di non dar seguito ad ambizioni personali. Come ho sempre risposto, io non mi dimetto nemmeno se mi sparano, ma per un fatto di senso del dovere, in quanto la Camera di Commercio è un ente pubblico, va gestito con la diligenza del buonsenso e soprattutto con prudenza, lungimiranza, deve promuovere certe cose ma non deve accondentare rispetto a delle aspettative personali. E se gli viene contestato di non aver presentato il programma di mandato all'atto della candidatura e di non essersi confrontato sulle relative linee programmatiche, Bruno replica. Il mio programma è sul sito, è pubblico, ho chiesto dei contributi, finora non è arrivato un contributo da parte di persone che speculano su questo. Il programma è stato presentato il 4 novembre. Programma online dal 4 novembre dunque, con l'elezione che è avvenuta il 19 luglio.